Partita durissima contro la Piacenza che ha giocato una grande gara, siamo stati bravi a tenere di testa i primi tre set, siamo sciolti nel quarto, domani andiamo a caccia della Coppa. Sì, sì, Piacenza oggi hanno dimostrato soprattutto questi primi tre set che hanno veramente meritato di essere qui, però oggi abbiamo avuto un altro giocatore dietro di noi e così è stato più facile arrivare anche in finale per domani. Senti, non ti chiedo ovviamente che ti aspetti in finale, ti chiedo che Perugia vedremo domani in finale, si gioca per un trofeo importante. Credo che domani sarà una grande festa e spero che fino alla fine sarà sempre così.